È una pala d'altare, l'ultima, perché abbiamo visto le datazioni che altre sono state iniziate prima o comunque hanno delle altre incongruenze. È una pala bellissima con l'incoronazione della Vergine veramente eccezionale, fatta una parte da Signorelli e una parte chiaramente dalla scuola. L'incoronazione della Vergine è l'ultimo quadro dipinto da Luca Signorelli, custodito nella collegiata dei Santi Leonardo e Martino a Foiano. Questa pittura è importante per vedere appunto la vecchiaia di Signorelli perché aveva 70 anni, quindi un'opera che ancora è dignitosa e che ha una parte eccezionale con i volti della Madonna, i volti degli angeli, ha degli strumenti musicali che già precorrono i tempi come questo violino di legno. Attorno all'opera nel borgo della Valdichiana un momento di riflessione e dialogo per raccontare il grande maestro cortonese in occasione dei 500 anni dalla morte in rapporto anche con l'arte e l'opera della famiglia della Robbia che tante testimonianze ha lasciato proprio a Foiano. Abbiamo la fortuna di avere tantissime opere di importantissimi pittori e scultori italiani del Rinascimento, quindi abbiamo il Vasari, abbiamo il Pomarancio e abbiamo anche il maestro Luca Signorelli. L'ultima opera di Luca Signorelli è proprio qua, nella nostra collegiata. Un'iniziativa che rientra nel ricco programma collaterale alla mostra a Norobbiano. Abbiamo progettato questa mostra da molto tempo, poi con il Covid ci siamo fermati, l'abbiamo riproposta nel 2023. È stato un successo la mostra sui della Robbia che neanche noi ci aspettavamo in questo modo, tanto che abbiamo anche prolungato la mostra che doveva finire il 30 settembre, invece l'abbiamo prolungata fino al 31 dicembre. Quindi tantissimi visitatori, tante persone da fuori, sia ovviamente da fuori della nostra provincia che è addirittura da fuori Italia e quindi è stato un bellissimo biglietto da visita. Nell'occasione è stato anche esposto un documento unico, la ricevuta che lo stesso Signorelli fece alla Chiesa per la realizzazione del suo ultimo quadro dipinto. Per 90 ducati dice che è soddisfatto sia di come è venuto il quadro, sia della trattativa che ha fatto allora con la curia. Grazie.